I banchi dell'opposizione. Come saranno composti i banchi dell'opposizione nella prossima legislatura, la decima? Sulla base delle proiezioni che emergono a oltre tre quarti dallo scrutinio, possiamo già dire quali sono i consiglieri, i candidati con il maggior numero di preferenze. Guardiamo ad esempio Forza Italia, che secondo le nostre proiezioni, ma ripeto è un dato provvisorio, dovrebbe fare nella provincia di Torino tre consiglieri. Abbiamo in testa, nettamente con le preferenze, Porchietto, attuale assessore al lavoro, Tronzano, consigliere al comune di Torino e Vignale, attuale assessore al personale alla montagna. Invece, nelle altre province, a Cuneo è in testa nettamente Graglia, sindaco di Cervere, a Novara Sozzani, presidente uscente della provincia, ed Alessandria Berruti. La Lega Nord, secondo le proiezioni, dovrebbe raggiungere il risultato di due consiglieri. Uno, a Torino, e in testa alle preferenze c'è Benvenuto, e a Cuneo, dove in testa alle preferenze c'è la presidente della provincia, Gianna Gancia. Il Movimento 5 Stelle dovrebbe attestarsi tra gli otto, nove, dieci consiglieri, di cui la metà su Torino. In testa alle preferenze c'è Davide Bono, che era anche candidato alla presidenza della Giunta, che però è anche in testa alle preferenze nella quota proporzionale. Poi Bertola, consigliere comunale di Torino, Fornari e Albano. A Cuneo, in testa alle preferenze attualmente ci sono Palladino e Bessone, ad Alessandria Mighetti, ad Asti Pelletieri e a Novara Lena. A Cuneo, in testa alle preferenze attualmente ci sono Palladino e Bessone.